Dalla regina Elisabetta II a Serena Williams, da Hillary Clinton a Rita Levi Montalcini, sono loro alcune delle protagoniste delle storie della Buonanotte per Bambine Ribelli. Sono storie di donne da tutto il mondo, donne di tutti i tempi, del passato e del presente, da Elisabetta I a Serena Williams, illustrate da 60 illustratrici che vengono da tutto il mondo. Sono storie di donne che hanno compiuto imprese straordinarie in ogni settore perché volevamo proprio dare degli esempi nuovi di eroine moderne che veramente non hanno ostacoli, che riescono a compiere imprese eroiche, incredibili a dispetto e nonostante tutti gli ostacoli che trovano nei loro percorsi e nelle loro vite. Il libro, ideato da Francesca Cavallo e dalla retina Elena Favilli, che ha ottenuto il maggior finanziamento della storia del crowdfunding, ha raccolto infatti oltre un milione di dollari in 70 nazioni e in meno di un mese. Il libro è stato presentato anche ad Arezzo nella sede della cooperativa Coinet. Io sono cresciuta a Lorociuffenna, poi ho studiato a Bologna e adesso vivo da 5 anni negli Stati Uniti. Con questo libro, storie della buonanotte per bambini e ribelli, adesso finalmente è stata un'occasione per tornare in Italia e per tornare anche in Val d'Arno e ad Arezzo a presentarlo, per cui sono molto molto contenta. Grazie.